Eugenio Tacchini è un altro dei borsisti di Working Capital Padova. Innanzitutto ci vuoi dire due parole su di te chi sei e che cosa fai? Io sto facendo ricerca sul tema dei recommender system all'Università degli Studi di Milano. Sto terminando un dottorato in informatica, ho avuto esperienze anche in azienda e come docente all'Università Cattolica di Piacenza. Il progetto che hai presentato oggi in due parole, diciamo così, come puoi riassumere? Sì, dicevo appunto il tema è quello di recommender system. L'idea è quella di fare qualcosa di innovativo in questo ambito. In particolare il progetto che si chiama Mentorex mira a creare un recommender system che dia delle raccomandazioni innanzitutto non scontate. Quindi se mi piacciono i Beatles non deve dirmi di ascoltare John Lennon perché lo so già. E secondariamente di cercare di scoprire quelli che possono essere i miei interessi datenti, che possono essere anche lontani da quello che sto facendo adesso. Quindi proprio il lavoro che potrebbe fare un mentore me lo fa questo recommender system. Ecco da qua l'analogia. Quindi non soltanto un sistema di raccomandazioni che comprende l'esigenza dell'utente e gli propone delle cose che sono nei suoi gusti, diciamo così, ma anche un sistema che tende ad accentuare la serendipity. Esatto. L'idea era proprio quella di partire con il presupposto che esiste una dissimilarità buona. Cioè che non è buono solo quello che è simile a noi, ma che ci sono cose, utenti in questo caso, quindi persone diverse da noi, dissimili, con gusti che sono molto lontani dai nostri, che ci possono ampliare gli orizzonti. E questo viene poi traslato in vari domini. Quindi la musica è quello su cui ho fatto esempi, ma tutti i contenuti, cinema, ebook, calzano a pennello, così come anche altre cose. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un software, stiamo parlando di una piattaforma, stiamo parlando di un progetto di ricerca per capire come realizzare le due prime cose che ho citato? Sì, l'ultima. Io mi voglio concentrare in questo anno sulla ricerca. Quindi non ho in questo momento in mente un'azienda, un business model. ho in mente di trovare l'algoritmo che mi permette di fare quello che ti ho detto prima, che poi si tradurrà in un prototipo e che poi può essere ovviamente industrializzato. Senti, non è il primo servizio che sento nominare che cerca di raccontare alle persone, di spiegare alle persone di che cosa hanno bisogno. E' una delle caratteristiche proprie della maggior parte dei servizi web 2.0. Secondo te le persone hanno davvero bisogno di essere così guidate? C'è un valore aggiunto forte in tutto questo? Oppure in qualche modo c'è il rischio di renderle meno smart? Io sinceramente le trovo utili, specialmente in certi domini, come ad esempio la musica. Io sono un utente di Last.fm da anni, forse da quando è stato creato e li uso molto per scoprire cose nuove. Non mi piace fossilizzarmi su quello che ho già dichiarato come una cosa di mio interesse. Mi piace esplorare nuovi lidi e secondo me in questo aiutano. Ovviamente se io avessi da parte me un essere umano che mi fa da mentore sarebbe altrettanto utile, se non meglio. Però in mancanza di quello sono un ottimo supporto. Ti ringrazio. Prego, grazie a voi. Grazie a voi.